Sono sette restanti referendum, ora all'esame della Corte Costituzionale. Cannabis si chiede di cancellare le pene per chi coltiva e la sanzione amministrativa della sospensione della patente. L'obiettivo è di depenalizzarne la coltivazione e l'uso personale. Legge Severino proposta l'abolizione delle norme che prevedono incandidabilità, ineleggibilità e decadenza da cariche comunali, regionali e parlamentari per chi condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati. Custodia cautelare, la cancellazione di una parte dell'articolo 274 del Codice Penale per ridurre l'ambito dei reati per i quali è consentita l'applicazione delle misure cautelari e in particolare della carcerazione preventiva. Separazione delle carriere, per limitare il cambio di funzioni tra giudici e PM e viceversa nella carriera di un magistrato. Consigli giudiziari, consentire il voto degli avvocati che siedono nei consigli anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. Responsabilità civile diretta dei magistrati, cancellando parte delle norme esistenti per gli errori giudiziari si vuole introdurre la responsabilità civile diretta dei magistrati. Elezione del CSM, si propone di abrogare la norma che stabilisce che ogni candidatura sia sostenuta dalle firme di un minimo di 25 presentatori per arrivare a candidature individuali libere. Grazie! Grazie!